Sapete, abbiamo tutti la convinzione radicata di dover mettere in luce il nostro lato migliore e di dover correggere invece quello che è brutto, quello che è negativo. Quanta vita sprechiamo cercando di eliminare quelli che in realtà nella nostra vita noi chiamiamo difetti. In realtà quando ci comportiamo così è proprio il momento in cui siamo maggiormente in balia del nostro mondo esterno e del suo giudizio e lontani invece da noi stessi. Ma il mondo interno ragiona diversamente, dobbiamo imparare a conoscerlo forse di più. Quelli che chiamiamo limiti da superare per l'anima invece sono delle caratteristiche veramente innate, che devono ancora svilupparsi, che magari hanno bisogno di tempo. Proprio nei difetti e quindi racchiuso ciò che in realtà ci rende unici, speciali. Solo lì c'è la sorgente della vera autostima e della fiducia in se stessi. Sapete, sono proprio questi talenti che possono sbocciare solo se smettiamo di lottarci contro, se evitiamo ogni giorno costantemente di giudicarli e se non cerchiamo continuamente di omologarci agli altri, al mondo, per sentirci accettati. Solo allora i difetti iniziano a mostrare il loro vero volto. La timidezza diventa ad esempio capacità di introspezione, pensaci. La sensibilità diventa un stesso senso. Il brutto carattere diventa entusiasmo creativo. Il nostro viaggio comincia davvero quando smettiamo di lottare contro quello che non ci piace di noi. Un caro saluto.